Avete mai preparato gli asparagi al forno? Sono buonissimi! Lavate e pulite bene gli asparagi e adagiateli su una teglia foderata con carta da forno. Poi aggiungete sopra dei pomodorini tagliati a spicchi, sale, pepe, se volete potete aggiungere anche delle olive, scaglia di formaggio, io ho utilizzato del grana padano, un filino d'olio e via in forno a 180 gradi per 15-20 minuti. Devono diventare morbidi. Provateli, sono davvero gustosi! Come primo piatto vi consiglio la pasta con crema di asparagi e salsiccia buonissima. Lavate e tagliate a tocchette gli asparagi e fateli cuocere in padella con cipolla, olio, sale e due mestole di acqua calda. Per una quindicina di minuti, devono diventare belli morbidi. Nel frattempo in un'altra padella fate soffriggere la salsiccia sbriciolata. Ed eccoli qui, gli asparagi sono pronti, porto a cottura la pasta in acqua bollente salata per il tempo indicato sulla confezione, frullo metà parte di asparagi con un po' d'acqua di cottura e del formaggio spalmabile. Di frullo fino ad ottenere una crema. La verso all'interno della padella insieme agli altri asparagi. Aggiungo la pasta ormai cotta, la salsiccia, manteco per qualche istante e provatela. È davvero squisita! Ciao!